Va ora in onda la rassegna stampa. Grazie a tutti. 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 in un boomerang per la leadership cinese, scrive ancora l'agenzia ANSA. Le migliaia di persone scese a manifestare anche ieri in varie città del paese, a costo di pesanti conseguenze, hanno preso di mira per la prima volta direttamente il partito comunista e il presidente Xi Jinping, chiedendone le dimissioni e una svolta democratica, un affronto che alla cittadella del potere rosso di Pechino, Zhong Yanai, avrà di sicuro fatto alzare il livello di guardia, scrive l'ANSA, verso un fenomeno che sta trovando sponde in tutta la Cina, come non accadeva dai tempi di piazza Tiananmen, sulla spinta dei social media dove la creatività ha neutralizzato la censura del Great Firewall. I fogli bianchi tra le mani sono i simboli più riconoscibili anti-lockdown e spuggono alle maglie dei controlli. Shanghai e Pechino sono gli epicentri della protesta, ramificata in altre città, compresa Wuhan, il famigerato capoluogo dell'Ohebei all'origine della crisi del nuovo coronavirus. Gennaio 2020, nella capitale cinese, presso la prestigiosa Università Tsinghua, circa 300 studenti hanno protestato dopo l'affissione di un foglio bianco. Alcune centinaia di persone in serata si sono radunate lungo il fiume di Angma e nelle aree limitrofe, per una veglia a dispetto delle restrizioni anti-Covid in ricordo delle vittime dell'incendio di Urumqi, nello Xinjiang, costato la scorsa settimana la vita a 10 persone, in una tragedia imputata alle implessibili politiche anti-Covid. Tra i canti l'internazionale e Imagine di John Lennon, i video circolati online mostrano la rabbia di una popolazione esausta, frustrata per le continue restrizioni anti-Covid che ripetono la solita ricetta. Chiedo scusa, lockdown, test di massa, quarantene interminabili, ingerenze nella sfera dei diritti. Lo stesso Xi Jinping, appena riconfermato alla guida del partito comunista, ha definito poco costosa la linea zero Covid, nonostante le restrizioni abbiano affossato l'economia. L'emittente statale cinese CCTV Sports sta tagliando le inquadrature ravvicinate dei tifosi senza mascherina anti-Covid ai mondiali di calcio del Qatar, dopo che i primi servizi hanno scatenato la rabbia nel paese, dove sono scoppiate proteste per le restrizioni contro la pandemia. Cambiando completamente argomento, ma sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, poi andiamo a vedere le altre notizie e le prime pagine, velocemente, perché alle 8.25 abbiamo un piccolo focus con Maurizio Bolognetti su una censura, bella e buona, in rete, e alle 8.30 il collegamento con Andrea Costantino da Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, dove rimane prigioniero politico, possiamo dire così, senza tema di smentita. Letizia Moratti dicevamo non posso e non voglio tirarmi indietro, sono nella condizione di impegnarmi per il bene collettivo, così la candidata alle regionali in Lombardia durante la presentazione della sua lista denominata Lombardia Migliore al Palazzo delle Stelline di Milano. La politica è un'impegna faticoso, ha detto Letizia Moratti, ma credo che nella vita non si possono sempre fare scelte facili e di comodo. A me ne erano state offerte tante, ma credo che vadano fatte scelte che nel proprio cuore si sentono giuste. Dobbiamo tornare a parlare la lingua che conosciamo, concretezza, oltre le etichette dei partiti, ha detto Letizia Moratti presentando la sua lista Lombardia Migliore. Vedo un potenziale spento, voglio dare alla Lombardia la possibilità di tornare a essere locomotiva d'Italia ed Europa. Nel programma attenzione all'ambiente, alla qualità della vita, dell'aria, dell'acqua e non c'è qualità della vita senza sicurezza, senza un piano trasporti, senza un modello di sviluppo, occupazione e crescita. Due province della Lombardia sono al di sotto della media del PIL nazionale. Questo non è ammissibile. Quando sento il presidente Fontana che parla di smart land a fine mandato, oggi si riunisce a Langar Bicocca, Fontana con Salvini e altri, per rilanciare appunto sul smart land, ovvero sulle innovazioni tecno-energetiche. Mi spiego tante cose, visto che in questo siamo all'anno zero, ha detto Moratti. Abbiamo bisogno di connettere i territori, le imprese e il terzo settore. 300 persone al Palazzo delle Stelline per la presentazione della lista di Letizia Moratti, gli ex leghisti Gianmarco Senna e Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale, l'ex azzurra Valentina Prea fu riuscita da Forza Italia dopo la mancata nomina sottosegretario, l'ex vicepresidente di regione Lombardia Letizia Moratti è arrivata accompagnata dall'imprenditore Tiziano Mariani, suo fido consulente editore di Radio Lombardia e dal guru della comunicazione politica Daniel Fishman. In sala anche il presidente dell'associazione Adriana Pozzi, segretario Giuseppe Covato, il tesoriere Riccardo Zani, l'ex calciatore dell'Inter Evaristo Beccalossi, Manfredi Palmeri, già consigliere comunale di Forza Italia, l'ex consigliere regionale a Roma Marco Tizioni, etc. Lasciamo anche questa notizia, ma vi segnalo sul Corriere della La lista civica di Letizia Moratti è lungo e guarda ad extra, ex maroniani, ex leghisti della prima e ultimora ed ex forzisti, autonomisti, qualche probabile ingresso da parte di Pentastellati appena fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle. Così riassume il Corriere della Sera il personale politico di Letizia Moratti. Nella sala gremita ha oltre 700 persone, sostenitori e diversi esponenti politici. Il capolista a Milano sarà il consigliere regionale di Lombardia migliore a Manfredi Palmeri. Tra i nomi che gli elettori si troveranno a votare Valentina Aprea, Davide Boni, ex presidente leghista bossiano del Consiglio regionale, coordinatore lombardo oggi di Grande Nord, lo stesso imprenditore fondatore del Movimento Indipendentista, Roberto Bernardelli, ex maroniani, come Marco Tizzoni, capogruppo di Maroni presidente, Luca Ferrazzi, già in AN e poi nella lista Maroni, Tiziano Mariani, consulente di Moratti, editore di Radio Lombardia, Mario Mauro, ex ministro della difesa, Ciellino, col governo Letta, ex vice presidente del Parlamento europeo, Cristian Borromini, ex segretario della Lega di Sondrio e l'ex bossiana assessora regionale Monica Rizzi. Anche l'azzurro Andrea Mandelli potrebbe confluire nella lista. In sala ieri era presente anche il pentastellato fuoriuscito dal gruppo 5 Stelle Roberto Cenci. Nella squadra di consiglieri politici lo spin doctor Daniel Fishman. Moratti candiderà anche Akhsadep Singh, 23 anni, bresciano, di religione Sikh, studente in giurisprudenza, attivo nella democrazia cristiana di Brescia. Sarò portavoce, dice, delle comunità extracomunitarie per intraprendere un necessario percorso interreligioso. Così la racconta il Corriere della Sera. Cambiando argomento, Frana di Ischia, il presidente della regione Campania De Luca, ha detto bisogna parlare chiaro, in alcune aree non si può abitare, ha scoperto il governatore della campagna il 27 novembre alle 12 e 19 sull'agenzia ADN Cronos. Chiesto lo stato di calamità, dice, il governatore. La priorità adesso è cercare le persone sotto il fango, prevedibile che ci siano altre vittime. Bisogna dirlo chiaro che in alcune aree, per ragioni idrogeologiche, non si può abitare, ha detto De Luca. Sulla Frana di Ischia, anche Conte, che dice, non ho fatto io il condono, ma Renzi e Cottarelli vanno all'attacco. Il Movimento 5 Stelle parla di sciacallaggio. Quello del 18 non era affatto un condono, ha detto Giuseppe Conte, respingendo le accuse di chi lo indica, come autore dell'ultima sanatoria per abusivismo edilizio di Ischia, firmata nel governo Conte I, quando era il governo con la Lega. Il tema torna d'attualità dopo la Frana che a Ischia ha devastato l'area di Casamicciola. Perché la valanga di Ischia travolge Conte, cerca di spiegarlo su Start Magazine Luigi Pereira. Giuseppe Conte nega che la norma inserita nel decreto Morandi sul ponte di Genova del 2018 sia stata un condono per Ischia, ma il termine condono compare perfino nel titolo dell'articolo relativo, tutti i dettagli tecnici e le polemiche politiche. C'è da segnalare sul tema un bell'articolo di Antonio Napoli su il sussidiario.net, visto da Sud, clientele nero sanatorie, ecco come funziona il sistema Ischia. Clientele, cioè voti da tutelare, poi permessi e condoni. Trasparenza zero, Ischia esprime al meglio il modello Sud, ma c'è un esempio virtuoso Pozzuoli. La verità è che non siamo d'accordo, scrive Antonio Napoli sul sussidiario.net, non siamo d'accordo sull'analisi delle cause, sulle responsabilità e su quello che andrebbe fatto, perché cose del genere non si ripetano. La tragedia di Casamicciola apre vecchie ferite e, come sempre, in Italia non c'è nulla di scontato e definitivo. Ha cominciato l'ex sindaco del comune di Ischia, Giosi Perrandino, ora europarlamentare nel PD. Ha traslocato in realtà nel gruppo Renew Europe, avendo nelle file del terzo polo, insomma, a mettere le cose in chiaro. Ischia è un'isola fragile, non capisco perché altrove una tragedia è una tragedia e qui è colpa dell'abusivismo. Esplicito. Di tutt'altro avviso, Antonio Stella, prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, hanno costruito in prossimità di Scarpate zone sismiche, zone franose. C'è sempre stata una coalizione di destra e di sinistra contro tutte le demolizioni, con un risultato all'entrata in vigore del condono 2003 voluto dal governo Berlusconi. Il numero delle demolizioni eseguite a Ischia, a partire dall'88, risultava essere stato in totale solo 22 su 2.922 ordinate dalla magistratura, con sentenza esecutiva. Realizzata la distruzione solo dello 0,75% delle demolizioni che sono state ordinate dalla magistratura. Non poteva neanche mancare il sassolino lanciato da Vittorio Feltri con un tweet velenoso, dicono che l'abusivismo edilizio è diffuso in tutta Italia. Io a Bergamo non ho mai visto un edificio non regolare. In questo confronto, in questo porto delle nebbie, emergono cose molto chiare, scrive il sussidiario. Forse vale la pena considerarle se non vogliamo fare la solita discussione ipocrita. Il rispetto che si deve ai morti merita uno sforzo di chiarezza. La prima questione è che il mezzogiorno rappresenta una specificità negativa, per colpa della politica e della sua classe dirigente locale. Quasi sempre perché di mezzo ci sono i voti, gli interessi elettorali, non si vuole scontentare, non si vogliono perdere i voti, anche se bisogna sacrificare il buon governo e il bene comune. C'è sempre un interesse privato da tutelare, un privilegio da proteggere, un favore da garantire. Risultato è il territorio in valia di bande organizzate per trarre fino all'ultima goccia di denaro. Raccontiamo le cose come stanno, scrive ancora sul sussidiario.net Antonio Napoli in questo punto della situazione su Ischia. Casa Micciola da ottobre a giugno è un piccolo paese, conta al massimo qualche migliaia di abitanti stanziali, la vita scorre molto lentamente, fa bisogno abitativo zero. Da giugno a settembre la città si gonfia, 5, 10, 20 volte, riempiendo di turisti, alberghi, pensioni, case e stanze. Il reddito pro capite prodotto è molto alto, concentrato in quei mesi. Una stanza di 12 metri quadri può fruttare fino a 1000 euro a settimana per tre mesi. Tutto avviene senza controlli, a nero, tutto tollerato senza che qualcuno si preoccupi di valutare l'impatto e le conseguenze ambientali. Tutto è descritto in modo molto pittoresco, piace a tanti, proibito parlarne male. Seconda questione, condoni e demolizioni. In questi anni si è lasciato prosperare l'illegalità, giustificandola con l'incapacità della pubblica amministrazione. Uffici inesistenti, scarso personale, domande accumulate negli anni, inesistenza di strumenti digitali di controllo del territorio. Semplicemente perché non si è d'accordo, si ritiene giusto che ognuno faccia quel che vuole, non si ha un'idea dello sviluppo del proprio territorio. È la stessa ragione per cui si bruciavano gli archivi nel Medioevo. Eliminare ogni traccia del diritto è il modo per rendere tutti ugualmente colpevoli nei confronti della legge, anche chi ha fatto le cose in regola, chi ha diritto alla sanatoria. Quindi, per prima cosa, rimettete a posto le carte. Affidiamo a una società esperta alla digitalizzazione dei documenti. Chi ha diritto sia condonato, chi ha torto penalizzato. Terza questione, scrive ancora Antonio Napoli sul sussidiario, l'uso delle risorse pubbliche destinate a risanare i territori, meccanismi farraginosi, inapplicabili, ogni volta la stessa cosa. Anche a Casamicciola c'è un commissario, come in mezza Italia, è lo stesso commissario, l'ex senatore Lentini, che sovrintende la ricostruzione delle zone terremotate di Marche e Abruzzo. Anche qui tutto fermo. Risultati scadenti, soldi annunciati, mai spesi, lavori promessi, mai realizzati. Il punto rimanda a una scelta strategica che dobbiamo fare. Delocalizzare, spostare interi agglomerati urbani, prevenire i rischi. Non si è possibile costruire un nuovo quartiere in zona più sicura. Monte paesaggio. Cambiando argomento ancora, ma rimanendo al sussidiario, vi segnalo un altro articolo a Selmo del Duca. Su Ischia e governo, una riflessione più in generale, visto dal Colle, il patto che serve per opporsi al dissesto. Un commissario straordinario, 2 milioni di euro già stanziati per i primissimi interventi, ma la tragedia di Ischia chiede al governo molto di più. Andiamo rapidi. Vi segnalo ancora, dall'agenzia AGI invece, un altro tema. La povertà. Più di 2 milioni di famiglie vivono sotto la soglia di povertà. Sono oltre 5 milioni 600 mila le persone che vivono in una famiglia che racimola meno di 640 euro al mese. E la tendenza, secondo lo studio dell'Istat, è in crescita. Mentre per quanto concerne il quadro internazionale, la politica estera, il quadro geopolitico e la guerra in Ucraina, anzi, contro la Russia, Ucraina, Polonia e paesi baltici, scrive Gianandrea Gaiani e riporta la nuova bussola quotidiana, vogliono spingere la Nato alla guerra. Dietro l'intenzione della Polonia di trasferire in Ucraina le batterie di missili Patriot ricevute dalla Germania, sta la volontà di coinvolgere direttamente l'Alleanza Atlantica nel conflitto contro la Russia. Il segretario della Nato Stoltenberg cerca di smarcarsi, ma la situazione diventa molto rischiosa e il passaggio dalla belligeranza indiretta all'impegno in prima linea sui campi di battaglia potrebbe essere a breve, scrive Gianandrea Gaiani, direttore di analisidifesa.it. Vi segnalo anche su Atlantico quotidiano il pezzo di Enzo Reale sulle proteste in Cina e la più importante sfida al partito comunista da piazza Tiananmen dell'89, 4 giugno 1989. Covid zero, la miccia, ma ribellione eccezionale perché non circoscritta alla politica sanitaria e per la dimensione nazionale. Slogan contro il partito comunista Stato e contro Xi Jinping. Sulla questione cinese anche Riccardo Cascioli, sulla nuova bussola quotidiana, la condanna del novantenne cardinale Zen, una vergogna per il Vaticano. La prima condanna inflitta all'anziano cardinale dal Tribunale di Hong Kong è lieve, ma con grande significato politico religioso, scrive Cascioli, e a breve ci sarà un secondo processo per cospirazione che metterà ancor più in imbarazzo una santa sede che continua a mantenere un ingiustificabile silenzio per salvare l'accordo con la Cina. La nuova bussola quotidiana si sofferma poi su un'altra questione, l'assegno unico per le famiglie numerose che sono ancora beffate in realtà. Nelle bozze della manovra, scrive Andrea Zambrano, oggi a proda alla Camera, la manovra si scopre che l'aumento dell'assegno unico per famiglie numerose non annunciato da Meloni è solo per chi ha figli sotto i tre anni. In questo modo si riduce la platea dei beneficiari, si creano discriminazioni, una beffa che smentisce le promesse del Ministero della Famiglia. Le promesse vanno mantenute anche su questo aspetto dell'assegno unico, ricorda Zambrano sulla nuova BQ.it, mentre Mattarella ha detto ieri in un tweet del Quirinale che bisogna alimentare l'amicizia tra Italia e Francia e interesse comune, riporta l'agenzia Agi. Il capo dello Stato rilancia i contenuti del Trattato del Quirinale, sottoscritto col Presidente Macron un anno fa. Italia e Francia hanno assunto l'impegno di operare strettamente insieme. Il Trattato del Quirinale rilancia un'intensa autentica amicizia tra i nostri popoli. E mentre litiga con l'Italia sui migranti, scrive su Atlantico Quotidiano Marco Cesario, a Macron scoppia la bomba McKinsey. Due indagini, consulenze a McKinsey raddoppiate fino a un miliardo a spese dei contribuenti francesi, accuse di favoritismi incrociati e sospetto di conti offshore. Sulla agenzia di Anne Cronos invece andiamo all'altra questione di questi giorni, il caso Sumahoro Fratoianni, sinistra italiana, dice io non mi pento della scelta. Cortocircuito denuncia il leader di sinistra italiana Fratoianni tra chi interpreta una battaglia e comportamenti e scelte che gettano ombre. Non mi pento della scelta. Fratoianni e Bonelli sono i protagonisti di un altro lancio di agenzia Agi. Su Sumahoro non sapevamo nulla. Non mi pento ma non sapevo. Il leader verde Bonelli sottolinea che sia garantisti con chi ha in corso procedimenti giudiziari. Qui non c'è alcun procedimento. Intanto a Pozzallo, in quel della Sicilia, questa è bella, l'avete sentita già sicuramente, nel Ragusano, in occasione delle feste di Natale nella piazza principale di Pozzallo è stata installata una scritta. Invece di scrivere Christmas, si è scritto Xmas all'inglese, come accade in tutto il mondo, che significa Buon Natale. Merry Christmas, Xmas. Qualcuno ha voluto strumentalizzare la scritta travisandola per una decima mass, che è tutt'altra cosa, dice il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Via dalle luci la X di Xmas, perché richiama il fascismo. Intanto Umberto Bossi ha lasciato l'ospedale, ringraziando tutti per la professionalità, racconta ancora la DNA Cronos, il senatore definito in ottime condizioni cliniche, dice Umberto Bossi, fondatore e presidente a vita della Lega, come da programma ha lasciato l'ospedale di Circolo, ringraziando per l'operato e la professionalità, medici e paramedici, tutto il personale ospedaliero, fa sapere Bossi. A proposito di Lombardia e di sanità, cosa dice la legge Lombarda e cosa serve a 8 milioni e mezzo di caregivers in Italia. Alessandro Milia su gli statigenerali.com. Il 22 novembre scorso il Consiglio regionale Lombardo ha approvato una legge all'unanimità a sostegno dei caregivers familiari, cioè coloro che assistono persone in grave difficoltà in famiglia. Questa legge arriva dopo una grande convergenza tra i diversi progetti di legge presentati dai vari partiti. E il punto lo fa appunto su questa questione della quale poi bisognerà parlare a parte cosa dice la legge Lombarda sui caregivers. Alessandro Milia sugli statigenerali.com. Non facciamo il tempo ad approfondire, ma il tema è molto importante. Mentre Giorgia Meloni incontra l'amministratore delegato della RAI, Carlo Fuortes, l'incontro giovedì mattina, 24 novembre scorso, è stato il momento di inizio della partita sul servizio pubblico radio-televisivo. L'incontro appunto di giovedì scorso tra il premier Giorgia Meloni e l'amministratore delegato della RAI. Si apre la partita sulla RAI, scrive. Prima comunicazione. Su Inside Over invece, il futuro del mondo nella riunione segreta delle élite del potere globale, classico, la Trilateral Commission, leader di grandi aziende, politici, professori, accademici asiatici, grandi personalità, anche se non è dato sapere il nome di tutti i presenti. Il 19 e 20 novembre scorsi, a Tokyo, si è riunita la Trilateral Commission, commissione trilaterale, l'organizzazione enigmatica, scrive Federico Giuliani su InsideOver, il giornale punto it, che dal 73 riunisce personalità di spicco per discutere e proporre soluzioni ai problemi del mondo. Fondata da David Rockefeller 50 anni fa, la Commissione descrive se stessa come un importante luogo per incubare le idee, insomma la Trilateral è un mito dei complottisti e non. Andando invece ad altro tema, a proposito di complottismi realistici, diciamo così, ecologismo, arrivano le carte di credito che rieducano, se ne occupa sulla nuova bussola quotidiana Stefano Magni. Normalmente temiamo che la carta di credito blocchi un nostro acquisto perché è finito il credito, ma già da due anni si stanno diffondendo carte di credito che bloccano un nostro acquisto perché è climaticamente scorretto. Alla cinese, insomma, si stanno sperimentando nuove forme di controllo sociale, superando governi troppo lenti sulle politiche climatiche. In tema di economia, vi segnalo, pseudonimo Musso, l'intervento su Atlantico Quotidiano, la domanda aggregata, questa sconosciuta di sole riforme non si cresce. Le riforme sono state predicate dal 92 avanti, bisogna fare le riforme. Nella visione esposta da Giorgia Meloni all'assemblea di confartigianato manca una cosa, lo stimolo della domanda aggregata. Di questa mancanza sono defunti molti governi precedenti. Assai interessante la riflessione firmata Musso su Atlantico Quotidiano. I nuovi errori della Commissione europea sulla spesa pubblica sono l'oggetto invece del pezzo del professor Gustavo Piga su Start Magazine. Cosa non va sulla proposta della Commissione von der Leyen sulla regolamentazione della politica fiscale degli Stati membri? Il commento dell'economista Gustavo Piga. Vi segnalo poi, sempre da Atlantico Quotidiano, il pezzo di Lorenzo Cianti, a proposito di cose corrette, dove nascono i deliri della cancel culture, dai Torquemada liberal agli eco-talebani, l'indottrinamento WOC, i risvegliati politicamente corretti, parte dalle aule universitarie, con programmi che criminalizzano l'eredità giudaico-cristiana e la cultura classica, per arrivare perfino nei musei. Arriviamo invece alla prima pagina del Corriere della Sera. Sotto accusa abusi e condoni, il disastro di Ischia in apertura, e poi gli isolani che incolpano chi non cura la montagna, il ministro Picchetto Frattin che dice che le opere si fermano per la paura di una firma, nessuno osa firmare perché poi viene incriminato, l'abuso d'ufficio, la legge Severino, eccetera, e poi ancora in primo piano la manovra. Non c'è l'obbligo del POS per le spese fino a 60 euro, ma anche le proteste in tutta la Cina contro i blocchi anti-Covid in prima pagina sul Corriere. Dal Corriere della Sera passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio, apertura col virgolettato di report, sanzioni europee a Mosca chieste da Stati Uniti e Ucraina alla società di revisione KPMG, retroscena dell'embargo sul petrolio che condanna anche la raffineria di Priolo in Sicilia. Stasera su Rai3 parla Salvatore Carollo, trader ed esperto di energia. Per vent'anni colleni, Kiev e Washington chiesero alla multinazionale di consulenza di strutturare il piano europeo, scrive il fatto. Le sanzioni alla Russia, la richiesta agli Stati Uniti della società KPMG. L'anticipazione stasera su Rai3 se ne occupa. Report Priolo, le mani americane sulla raffineria. La crisi della raffineria di Priolo passa per l'Ucraina, scrive il fatto quotidiano. Il destino dell'impianto del gruppo russo Lukoil, che dal 5 dicembre rischia di lasciare a casa 10.000 lavoratori tra dipendenti diretti e indotto, è appeso alla proposta del governo di Kiev attraverso la società di consulenza KPMG di far presentare all'Unione Europea, subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il primo pacchetto di sanzioni contro i russi per bloccargli uno dei beni più preziosi, il petrolio. È il quadro svelato dalla nuova inchiesta di Report in Onda Suray3 stasera che ricostruisce lo scontro geopolitico in atto sul petrolchimico nel siracusano, che coinvolge anche gli interessi degli Stati Uniti sul mercato mondiale dei carburanti. La società petrolifera russa, Lukoil, che controlla il principale impianto della zona industriale nel siracusano, viene raffinato il 20% della benzina che finisce nei distributori italiani ed è capace l'impianto di Priolo di produrre da solo un terzo del fabbisogno di derivati di petrolio in Italia. La società petrolifera russa, la Lukoil, proprietaria dell'impianto di Priolo, non è mai stata sottoposta alle misure restrittive dell'Unione Europea. A Priolo, anche se il greggio arriva dalla Russia, il processo di raffinazione rende il petrolio italiano non soggetto quindi a sanzioni. Meccanismo che, da febbraio scorso, dopo l'invasione russa in Ucraina, anche con le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ha permesso alla raffineria di continuare a lavorare. Ora, lo stabilimento rischia di fermarsi per le nuove sanzioni per il petrolio russo che scatteranno lunedì prossimo. Da quella data sarà illegale importare il greggio di Mosca. Il petrolio russo è l'unico che Lukoil raffina dopo che le banche hanno smesso di concederle credito che consentirebbe alla società di acquistare greggio da altri paesi. Ma le sanzioni sul petrolio che dovrebbero colpire Putin, società russe e idrocarburi russi, ora ricadono anche sull'Italia, con la decisione delle banche di garantire nuove linee di credito. Una reticenza che resta anche dopo che il governo Meloni, dopo che quello di Draghi non ha gestito il caso, ha prima scritto alle banche ricordando che le sanzioni non si applicano alla Lukoil e ha poi promesso di concedere garanzie attraverso SACE, società controllata dal Tesoro, o in alternativa un passaggio di quote, non escludendo la nazionalizzazione di Priolo con l'intervento dello Stato. Al momento però si è visto nulla. La motivazione non è emersa con chiarezza. Secondo report è legata alle pressioni degli Stati Uniti sulle banche. Lo conferma Salvatore Carollo, trader, esperto del settore energetico, ex responsabile per vent'anni del trading dell'ENI. Il superesperto racconta che lo scorso febbraio, dopo lo scoppio della guerra, fu contattato da KPMG, società di consulenza che voleva sapere come si sarebbe potuto bloccare il petrolio russo. Carollo svela che a chiedere alla KPMG di strutturare il piano era stato il governo ucraino. Poi Kiev avrebbe proposto il pacchetto di sanzioni in campo energetico all'Unione Europea che l'avrebbe accolto. In toto, difficilmente la situazione si sbloccherà, secondo Carollo. Le banche continuano a temere sanzioni secondarie del governo americano che colpiscono chi mantiene rapporti commerciali con i russi. Sull'impianto di Priolo c'è l'attenzione degli Stati Uniti che in cronica carenza di gasolio vorrebbero il controllo dell'impianto di Priolo. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il fondo di private equity americano Crossbridge Energy Partners ha presentato un'offerta di acquisto a Lucoil che ha rifiutato. Intanto il petrolchimico resta un passo dalla chiusura, scrive il fatto che apre la sua prima pagina su questo. Poi c'è la Cina sotto sopra. Turchia e Iran alleati, l'inchiesta di Media Part, la strage dimenticata dei kurdi che non si ferma e poi a Ischia i morti affiorati dal fango sono sette, intanto la politica litiga sulla norma giallo-verde del 18 che semplificava i condoni di Craxi e Berlusconi per la ricostruzione, la mette così. Il fatto, la pubblicità occulta che sta devastando i giornali, altro tema sul fatto economico di stamani, molti editori vendono agli inserzionisti articoli che contengono spot, codice civile e deontologia lo vietano ma il fronte di chi dice no è sempre più indebolito. Con ciò lasciamo la prima pagina anche del fatto, andiamo a vedere il giornale di Augusto Minzolini, tragedia annunciata via mail, la frana di Ischia, martedì l'ex sindaco di Casamicio l'ha avvertito le autorità con una pecca, ignorata, i progetti finanziati bloccati dalla burocrazia, i morti salgono a sette, illegalità in cifre, 28 mila richieste di sanatoria su 63 mila abitanti, un paese paralizzato scrive Carlo Lottieri nell'articolo di fondo, il disastro di Casamicio la ci dice molto dell'Italia, è opportuno interrogarsi sulle ragioni dello sfascio, le immagini che abbiamo visto sono frequenti, perché l'Italia è diventata il paese dei ponti che crollano, delle case spazzate via, sempre dalla prima pagina poi del giornale, la Cina che cancella altre libertà ed esplode la rivolta, il Marocco che batte il Belgio e gli immigrati che bruciano tutto a Bruxelles, convivenza difficile scrive il giornale fra Belgi e Magrebini, da Ilva Tim il peso dei ritardi altrui cade sul governo attuale, scrive ancora il giornale, poi Paolo Guzzanti che analizza i primi passi in chiaro scuro di Giorgia Meloni, oggi la manovra proda in aula. Ancora in prima pagina sul giornale la proposta di Monsignor Gallagher, ministro degli esteri del Vaticano sull'Ucraina, un tavolo di pace in Vaticano. Un'intervista shock poi la vediamo a parte di Luca Fazzo, io violentata dai satanisti e mai creduta, pagina 13, la storia terribile, terrificante che chiama in causa anche un magistrato ben conosciuto per avere indagato sulla fondazione Open di Matteo Renzi, Antonio Nastasi, prima ancora messo in prima fila per la questione del suicidio, a quanto pare non ritenuto da tutti tale, di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Io affidata ai satanisti, anni di violenze subite, denunce mai ascoltate, dice la ragazza, violentata dal patrigno e dai suoi complici. Intervistata oggi da Luca Fazzo, loro protetti, c'è qualcosa sotto, denuncia la ragazza, subito dopo l'affido mi ha messa incinta, per zittirmi ha minacciato pure il bimbo. L'inchiesta mi hanno accusata di inventare tutto quanto, sembrano intoccabili. Il pubblico ministero senese, Antonio Nastasi, oggi in servizio a Firenze, divenuto famoso per l'indagine a carico di Matteo Renzi, era titolare del fascicolo. Su Miriam, la ragazza che racconta oggi queste cose, al giornale, non venire creduta, mi faceva sentire ancor più in balia dei miei aguzzini. Sentivo che potevano farmi quello che volevano, mentre la procura di Siena assisteva al mio massacro ogni 15 giorni. Non è stato errore o incapacità, c'è sotto qualcosa, spero che un giorno debbano renderne conto. Anche loro, sono parole molto pesanti, quelle pronunciate da questa ragazza, Miriam, che parla per la prima volta. Per anni le sue denunce finivano in nulla, a venire intercettata e perquisita era lei, come se fosse una mitomane, con le sue accuse precise, circostanziate contro la banda di stupratori satanisti, dei quali era in balia, come se fossero fantasia o calunnie. Adesso Miriam parla, da Siena il fascicolo è arrivato a Milano, il pool antimafia ha incriminato la coppia di coniugi, Varesini, ai quali nel 99, quando aveva 17 anni, questa ragazza era stata affidata. Il padre affidatario la ingravidò quasi subito e da lì una catena di orrori. Stupri seriali, riti satanisti, crocifissi capovolti, uomini incappucciati. Quando si rifugiò in Toscana la localizzarono, la raggiunsero, l'incubo riprese. Titolare del fascicolo di indagine, il PM senese Antonio Nastasi, oggi in servizio a Firenze, divenuto noto per l'indagine a carico. Di Matteo Renzi, uno dei passaggi incredibili della storia, scrive Luca Fazzo, è che al padre affidatario di questa ragazza venne concesso dal Tribunale dei Minori di riconoscere il figlio avuto dalla ragazza affidataria. Che effetto le fece? domanda Luca Fazzo alla ragazza medesima. Avevo cercato in tutti i modi, racconta Miriam, di oppormi. Rifiutavo il test del DNA. Lui mi diceva, lo prenderemo, faremo a lui quel che facciamo a te. Toccava il bambino come toccava a me. Ero annichilita. Quando capii che non lo avrebbero mai fermato, mi resi conto di essere persa, impotente. Capii che potevo proteggere mio figlio solo subendo e stando in silenzio. Intanto quell'uomo continuava a ricevere minorenni in affido. Credo proprio, dice Miriam, che lui fosse agganciato al Tribunale dei Minori. Che lì ci fosse qualcuno collegato alla sua stessa rete. Per 25 anni hanno continuato ad affidargli ragazzi e ragazze. Li toglievano alle loro famiglie per affidarli a quei due. giudici proteggevano se stessi. Una storia terrificante quella raccontata a pagina 13 oggi da Luca Fazzo che intervista questa donna ormai affidata ai satanisti anni di violenza e denunce mai ascoltate. Con un atto d'accusa non pesante. Pesantissimo contro un magistrato della procura di Siena. Vedremo che sviluppi avrà questa storia terrificante e incredibile mentre il controcorrente del giornale si occupa di sanità malata agli ospedali vicini al crack. Ne parliamo dopo se facciamo in tempo ma leggetevelo se non facciamo in tempo. Pagina 19 del giornale di oggi. Il caso Sumauro per quattro anni soldi pubblici non dovuti alle cooperative di famiglia. la cooperativa Caribù ha problemi da anni in ambito giudiziario. Nel 2018 subì un decreto ingiuntivo per 139 mila euro. Pagamento mai avvenuto che ha portato al pignoramento di tutti i crediti. E questo qui lo hanno pure candidato. Da quel momento non avrebbe più potuto ricevere fondi pubblici. Eppure non è stato così. Lasciamo il giornale ma andiamo veramente in corsa al quotidiano nazionale. Giorno Nazione, il resto del Carlino. Baratro Italia con la foto deloquentissima in apertura di una casa che sta sullo strapiombo a Ischia tra le vittime due bimbi e un neonato. Noi nella casa sospesa nel vuoto. Quella che si vede in prima pagina. Sul quotidiano nazionale polemica sugli abusi edilizie sul condono. 27 mila richieste di condono su 62 mila residenti nell'isola. Un paese che frana nell'illegalità e tutto il resto. La sfida di Letizia Morati, una pattuglia di ex, ex bossiani, ex leghisti e compagnia bella. Molto bella. Con Letizia Morati. Repubblica apre la prima pagina con la strage degli abusi. Metà delle case di Ischia costruite sulla montagna sanate senza documenti né controlli. Colpo di spugna edilizio. Polemica su Giuseppe Conte per il condono firmato dal suo governo nel 18. Così scrive Repubblica. Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino. In primo piano a rischio il 94% dell'Italia. L'intervista al capo della protezione civile Fabrizio Curcio che spara questo numero. Il 94% dei comuni in Italia è a rischio frane alluvioni. Chiudiamo la baracca, chiudiamo l'Italia e facciamo prima. Intanto tra i primi corpi estratti dal fango due fratellini e un neonato di 20 mesi. Difficile trovare qualcuno ancora vivo. Famiglie cancellate sull'isola del dolore e dell'angoscia. Non ci riprenderemo più. La politica complice del disastro scrive Giuseppe Salvaggiulo. Conte che dice non feci condoni, Renzi che lo attacca, sei un bugiardo. E poi ancora Marcello Sorgi che commenta il partito unico dell'abusivismo, destra e sinistra, tutti insieme, malauguratamente. E poi ancora Alessandro De Angelis, quell'eterno déjà vu dei senza vergogna. Lasciamo la prima pagina con la proposta del ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, fratello del celebre primario del San Raffaele e amico di Berlusconi. Smart working per gli statali e in manovra post obbligatorio solo dai 60 euro in su. Smart working che non si farà retromarcia, dice il ministro Zangrillo, che respinge gli affondi di Landini e Conte. La legge di bilancio risponde alle persone disagiate, dice Zangrillo, difende la tregua fiscale e garantisce appunto che sullo smart working non si farà marcia indietro, perché si lavora anche, lavorare da casa non vuol dire lavorare poco e male. Anche lo smart working ha la sua dignità. Con questo lasciamo la stampa, andiamo a vedere ancora, la verità è libero. La verità apre con l'arsenale dei vaccini MRNA. Ecco qual è il vero obiettivo. Dietro il piano approvato dal G20 si nasconde una rivoluzione della sanità. Ora, più che a curare i malati, si punterà a intervenire sui sani. Addio medicina, addio libertà. Covid è stata soltanto la prova generale. Dobbiamo rassegnarci all'MRNA. Si è lasciato scappare il professor Bassetti. I nuovi vaccini sono le armi di un arsenale che punta a rivoluzionare il modo in cui affronteremo i problemi della salute, come stabilito dal G20, la nuova strategia globale. Alle pagine 10 e 11 della verità della questione, l'arsenale MRNA, scrive Maddalena Loy, il G20 ha lanciato la rivoluzione sanitaria. Meno terapie per i malati, vaccinazioni a tappeto come prevenzione, campagne di immunizzazione obbligatorie, green pass permanente, un addio alla medicina e anche alla libertà. Così, in primo piano, sulla verità di oggi. Il pezzo del direttore, Belpietro Suischia, in difesa, ma qui De Luca non ha usato il suo famoso bazooka. Poi il caso su Maoro. La verità dell'ex sindaco di Rocca Gorga, Nancy Piccaro, in provincia di Latina, quanto è successo è emblematico. Il comune qui, piccolo comune di 5 mila anni, mi riceveva centinaia di migliaia di euro per raccogliere i migranti. Tesoretto trasferito alla cooperativa Caribù di Marie-Thérèse Mucamizindo, la suocera del deputato Su Maoro, oggi indagata. La verità dell'ex sindaco Piccaro. Il Viminale segnalò anomalie nella COP già dal 19. Io la cacciai, mi fecero fuori. Legami fra Caribù e esponenti PD vicini ai vertici. Così, in prima pagina sulla verità, che si chiude con Mario Giordano, che manda la cartolina a Marco Cappato, come fa a vivere per la morte? Intanto, in primo piano, anche l'intervista al Ministro dell'Ambiente, Picchetto Frattin, sul gas all'Unione Europea cambi idea o non votiamo. La proposta Price Cap è un inizio, ma insufficiente. Sono vicino alle famiglie di Ischia, in un mese piano contro i cambiamenti climatici, per anni bloccato dalla burocrazia. Tra le interviste di oggi va segnalata anche quella a Mario Bertolissi, consulente del governatore Zaia sui temi dell'autonomia, docente dell'Università di Padova, politici e burocrati, i veri nemici del decentramento. Due pagine dedica la verità al tema dell'autonomia. L'intervista a Paolo Agnelli di Fabio Dragoni, industriale dell'alluminio, Paolo Agnelli Bergamasco. Dobbiamo buttare via l'agenda Draghi. In Spagna, Francia e Portogallo c'è un tetto al prezzo del gas, la Bologna scava carbone, la Germania regala 200 miliardi. Da noi è vietato un 1% di debito in più. A sostegno delle aziende. L'Italia preferisce pagare cassa integrazione a ditte morte piuttosto che aiutare quelle vive, dice Agnelli. Il credito di imposta poteva essere più sostanzioso. Da segnalare ancora sulla verità di oggi l'intervista a una persona che a Radio Libertà conosciamo molto bene, interviene molto spesso, ovvero Suad Sbai, ex parlamentare. Così avanza l'Islam radicale, l'Europa deve aprire gli occhi, dice la responsabile immigrazione della Lega. Le moschee, il problema non sono i muri ma chi ci va a predicare. Diritti umani in Qatar, gli emiri comprano tutto, anche il silenzio complice dell'Occidente. Il Pakistan ci consegni il padre di Saman, sarebbe un bel segnale. La rivolta in Iran, quante donne di sinistra hanno indossato il velo, ricorda Suad Sbai. E lasciamo con questo, con un'altra segnalazione peraltro, una bella intervista di Tommaso Baronio al poeta e scrittore Davide Rondoni. Ho scritto una poesia per il libro del senatore leghista Pillon. Mi hanno infangato. L'Italia è malata di schieramenti. Sinistra e destra sono ottocentesche. Covid, la salute non basta, ci vuole un senso nella vita. Lasciamo con questo la verità. Andiamo di corsa a Libero, anche perché sono le 8.20. Il tempo non è mai sufficiente. Diventa sempre più scarso. Un bene scarso è preziosissimo. Libero apre con la censura. Buonista ha vietato raccontare la verità sulle ONG. Scrive Alessandro Gonzato in prima pagina. Urla e insulti al Festival del Cinema di Napoli. Impedita la proiezione del film in cui i migranti accusano, ci costringono a partire. A pagina 7 l'articolo. Vietato dire la verità sulle ONG. Scatta la censura buonista a Napoli. Impedita, a furia di urla e insulti, la proiezione del film, l'urlo, Schiavi in cambio di petrolio, di Michelangelo Severgnini, che fa parlare ai migranti che si dicono costretti a salpare per l'Italia. L'urlo è tratto dall'omonimo libro in cui l'autore, Michelangelo Severgnini, attraversa una serie di testimonianze denuncia il malaffare delle ONG a danno di migranti africani. È frutto di ore di audio e registrazioni inviate da numerosi ragazzi extracomunitari. La protesta è cominciata dalla prima fila. In pochi istanti la situazione è sfuggita di mano. A quel punto agli spettatori che erano in sala non è rimasto che uscire, perché il film non è piaciuto alla gente che piace, diciamo così. Per usare un'espressione che abbiamo usato in questi giorni, a proposito del nostro amico Andrea Costantino, che sentiremo tra pochissimo. Intanto dalla prima pagina di Libero c'è questa segnalazione appunto in prima pagina, o meglio, è un argomento da affrontare sicuramente, questo della verità sulle ONG. Dopodiché in taglio alto Conte che mente sul suo condono, volevo velocizzare, dopo la tragedia ha detto bugie, troppa tolleranza sull'abosivismo soprattutto al sud, scrive Vittorio Feltri, poi c'è un'intervista di Pietro Senaldi al vicepremiere ministro degli esteri Antonio Tajani, a questa Europa mancano i leader, un'altra di Fausto Cariotti e Matteo Renzi che si dice pronto a collaborare con Calenda, con il governo Meloni. Siamo pronti a lavorare col centrodestra, annunzia, si fa per dire, in prima pagina su Libero, Matteo Renzi, parla anche Monsignor Paglia, la Chiesa con il governo per gli anziani e poi Antonio Socci, la strana educazione sessuale che piace al PD, ai bimbi danno i peluche a forma di vagina. A Bologna è scoppiata una polemica che non c'entra col congresso del PD ma un po' sì, c'entra con l'editoriale di Luca Ricolfi uscito sabato su Repubblica col titolo La Sinistra, che si deve ispirare alla Sinistra Blu e il nuovo PD. Partiamo dalla notizia, la riprendiamo da Repubblica, l'educazione sessuale delle bambine con giochi, carte e libri inaugurata a Bologna, la Tabuteca, la prima in Italia. Per le bambine arriva la vulva di peluche o sessioni della Sinistra, che senso ha? Si domanda Socci. A Bologna, col contributo della regione Emilia-Romagna, nasce un progetto per spiegare ai piccoli anatomia, orientamenti sessuali, identità di genere, scoppia la polemica. Sul perché c'entra l'articolo di Ricolfi e la Sinistra Blue Collars, roba del genere. Insomma, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti la Sinistra riscopre gli interessi della classe lavoratrice. In Italia, invece, si danno i peluche a forma di vagina. In sostanza, scrive Socci, incontro segreto tra Becciu e Bergoglio, dopo la pubblicazione delle intercettazioni, racconta infine Renato Farina, in prima pagina su Libero. Con ciò, lasciamo Libero e andiamo adesso rapidissimamente, non andiamo da nessuna parte perché facciamo una piccola pausa e poi abbiamo con noi Maurizio Bolognetti per raccontarci una cosa decisamente interessante da sapere. Grazie. Allora, rieccoci qua, tamburo battente, tempo prezioso, come dicevamo, ma abbiamo il tempo di avere con noi, lo vedo collegato, Maurizio Bolognetti, che saluto e ringrazio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori e grazie davvero. Ti ringrazio doppiamente anche per i numerosi contributi che stai dando alla nostra radio, gratuitamente, lo voglio dire, perché così è oggettivamente, quindi anche gli ascoltatori e le ascoltatrici lo devono sapere, sperando poi che in futuro cambi la cosa e si possa strutturare un vero e proprio rapporto di collaborazione, al quale terrei moltissimo, lo ribadisco pubblicamente per l'ennesima volta, perché compatibilmente con la situazione in cui siamo messi noi, che non è certo floridissima, cercheremo appunto di rafforzare la radio e del rafforzamento della radio fa parte anche la collaborazione in pianta stabile con te, perché hai fatto numerose cose interessanti, tra le quali un'intervista, una delle interviste che hai fatto, mercoledì 23 novembre l'abbiamo mandata in onda al Pietro Luigi Garavelli, che è primario di malattie infettive all'ospedale di Novara, no? E questa intervista, io me la sono risentita tutta ieri per la seconda volta, dopo che me l'avevi mandata, è stata incredibilmente censurata sul tuo canale di YouTube. Ma ci vuoi raccontare tu com'è andata? Perché qui si tratta di qualcosa di molto strano e di molto particolare, perché chi dovesse andare sul nostro canale la trova ancora, non so, adesso mi viene da dire non so per quanto. Ma sul tuo canale è stata censurata, anzi ti è stato bloccato il canale fino a febbraio. Cos'è successo Maurizio? Perché questa cosa non riesco a spiegarmela, tu te la sei spiegata? Ma io ho l'unica spiegazione che riesco a trovare, visto che... Perché oltretutto, fammi dire una cosa, io me la sono riascoltata, dicevo, e naturalmente qui c'è stata una conversazione, A civilissima, B non si è insultato nessuno, C si sono date solo notizie e informazioni e anche magari qualche spunto di riflessione, che non è una roba così terribile. Abituare e invitare qualcuno a riflettere sui dati e su notizie oggettive non è sbagliato, mi viene da dire, però viene censurato, siamo messi molto male. Siamo messi malissimo, io direi intanto di poter escludere, escludo categoricamente che la cosa sia collegata a un algoritmo rispetto alle parole utilizzate nel titolo, perché il titolo era assolutamente, diciamo così, il punto sulla vicenda SARS-CoV-2, due punti, intervista al dottor Pietro Luigi Garavelli, realizzata da Maurizio Bolognetti per Radiolibbertà. così è stato presentato all'intervista, quindi è del tutto evidente, intanto chiariamo questo, che qualcuna, che una o più manine si sono prese il fastidio di ascoltare integralmente i contenuti, di segnalarlo a YouTube e il grande fratello di YouTube prontamente ha accolto queste segnalazioni e ha rimosso il video. Io non me ne sono accorto subito, perché me ne sono accorto solo ieri, quando ho provato a caricare un nuovo video mi sono accorto che mi avevano bloccato, udite udite, per tre mesi. Per me quel canale è prezioso in termini comunicazioni, oltre a questa radio che mi è preziosa in termini di comunicazione e che mi consente di fare il lavoro che sto provando a fare. Però io dico che, guardate, qua è proprio una condizione di libertà vigilata con, l'ho scritto poco fa, con obbligo di firma di fronte a questo grande fratello. Grande fratello che veste, e questo io direi per l'immesima volta la pongo all'ODG, all'Ordine dei giornalisti, alla Federazione Nazionale della Stampa, a Beppe Giulietti, ad Articolo 21, chi lo ha visto su una serie di cose, ma davvero siamo disposti ad accettare che un qualunque cittadino italiano è un giornalista, uno che prova a fare il lavoro giornalistico, sia sottoposto a una censura in cui i gestori di un social che ha centinaia di milioni di iscritti e che potenzialmente consente di raggiungere il mondo, veste i panni del giudice, del pubblico ministero, del boia e non consente, vero signori di YouTube, una reale autodifesa di chi poi viene censurato. Io dico che questa roba dovrebbero tenerla in una qualche considerazione, prendo altro, che a parte la tua sensibilità giù, quella di pochissimi, credo, altri, la tua certamente confermata quotidianamente, beh non gliene frega niente a nessuno di questa roba, invece io credo che dovrebbe avviare il mio caso, perché ho l'impressione veramente di vivere in una situazione da troppo tempo di libertà vigilata, però io direi che c'è anche una questione generale da porre, ma evidentemente su questo l'ordine latita, mi spiace davvero perché sono un iscritto, la federazione nazionale della stampa latita, idem, latita anche articolo 21? Eh, vabbè, articolo 21, intanto i cui le tette, gli interventi dei peggiori rappresentanti di regimi totalitari, quelli potete vederli tutti i giorni su YouTube e non sono sottoposti ad alcuna censura, perché quelli evidentemente culi, tette, interventi di certi satrapi, quelli non violano le norme della community, vergogna! E allora io invito per il momento ad andare sul canale YouTube di Radio Libertà e se scorrete dal vivo, c'è la sezione dal vivo, non video, dove trovate tutti i video in ordine cronologico, fate scorrere fino a risalire al 23 di mercoledì, 23 novembre scorso, c'è ancora l'intervista di Maurizio Bolognetti al professor Pietro Luigi Garavelli, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale maggiore della carità di Novara, riascoltatevela, fatela girare, perché francamente Maurizio, quello che è stupefacente è che un discorso così piano, così onesto, così semplice, per nulla diciamo, anzi il professor Garavelli invita perfino a vaccinarsi contro l'influenza, no, normale, perché lui è convinto che sia una cosa utile, saggia e opportuna e spiega il perché, quindi non c'è niente di eversi. Il professor Garavelli che si è anche vaccinato sui vaccini anti-covid, eh? Sì, appunto, appunto, tra l'altro, e oltretutto c'è una serie di considerazioni di talmente diciamo limpide, talmente oneste, trasparenti e basate appunto su dati di fatto, che io francamente sono molto preoccupato che ci sia anche soltanto l'ombra di una censura ad personam in questo caso, no, perché io non so fino a quanto dura, mi veniva da dire prima, fino a quanto fino a quanto ce la c'erano l'intervista lì. Intanto ci siamo autodenunciati, Temo. Appunto, e non ho capito perché l'abbiano tolta ad personam, al tuo canale personale, perché questa cosa mi inquietta ancora di più, perché vuol dire che è un'operazione mirata. Me lo consenti, sì, lo stai dicendo tu, io credo che ci sia qualcuno che mi vuole davvero tanto, tanto bene. Vorrei ricordare a me stesso che una persona informata dei fatti rispetto alla vicenda che mi ha visto coinvolto, insomma, come sapete sono stato licenziato, mi ha detto qualche tempo fa, hai mirato troppo in alto. E va bene, pazienza, è mia abitudine mirare in alto e andare al cuore delle questioni, l'ho fatto anche per esempio qualche tempo fa e anche in quel caso diciamo che ci sono state delle censure su questioni attinenti magistrati in servizio in basificata e su altre vicende. Io miro in alto perché ho a cuore la Costituzione, lo Stato di diritto, la democrazia, la libertà e sto parlando appunto su Radio Libertà. E grazie davvero, scusami davvero Giulio. No, ma intanto la tua presenza qui io la garantisco fino a che è campo e fino a che sono qui in primo luogo. Perché dietro a Maurizio Molognetti non c'è assolutamente niente se non quello che ha detto appena lui, appena adesso. Cioè la volontà di informare, di fare un servizio pubblico e di mettere a disposizione di tutti qualcosa per una riflessione collettiva. non c'è mai stato altro e Maurizio Molognetti non rappresenta altro. Voi dite è poco, è talmente prezioso ciò che rappresenta Maurizio Molognetti sotto il profilo professionale e giornalistico che qui avrà sempre casa sua. Finché ci sono io. Finché ci sono io ma non perché ci sono io in quanto io, ma in quanto responsabile di questa radio dal punto di vista editoriale e di ciò che va in onda. Quindi quello che va in onda per me è prezioso. Ed è prezioso non perché Maurizio Molognetti è un amico, è anche un amico. Nel corso degli anni ci siamo imparati a stimare reciprocamente, presumo. E quindi questo è un altro discorso. Quello che va in onda qui è perché ha un valore di contenuto, ha un valore giornalistico, serve a far riflettere un po' tutti. È un bene collettivo quello che tuteliamo attraverso l'azione individuale di Maurizio. Punto e basta. Grazie a Maurizio Bolognetti. Ci sentiamo presto. Grazie a te. Ci sentiamo presto e poi tra pochissimo noi siamo con Andrea Costantino in collegamento da Abu Dhabi. Ci sono delle novità, c'è stato un articolone di un importante quotidiano, ma ne parliamo tra poco.